Niamo ora a Salerno dove la solidarietà viene declinata in tanti modi. L'inviato Enzo Ragone. Qui si parla di solidarietà disinteressata, verso colori uguali. E questo, lo dico, è una cosa bella da parte di chi interpreta veramente il verbo di Dio. Come ogni domenica, qui alla parrocchia del Volto Santo a Salerno, i volontari accolgono le persone più bisognose del quartiere. Con l'emergenza coronavirus la mensa è chiusa, ma la richiesta di aiuto è aumentata. Ed è per questo che vengono consegnati pranzi d'asporto. Durante la settimana vengono invece distribuiti i pacchi alimentari alle famiglie del quartiere. Prima dell'emergenza Covid-19 avevamo un'utenza di persone che ne avevano necessità di circa 70 unità. Con l'avanzare di questa difficoltà, di questa emergenza, soprattutto lavorativa, quindi da una impossibilità comunque di avere un adeguato aiuto economico, ecco, le unità da 70 sono diventate 160. A sostenere le tante attività della parrocchia del Volto Santo ci sono la Caritas e l'arcivesco di Salerno, Andrea Bellandi. Mentre con la collaborazione di Vodafone e di Open Fiber, Don Francesco, in streaming ogni domenica, arriva nelle case dei fedeli del popoloso quartiere di Pastra. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.